Cos'era quel rumore? Non c'è qualcuno Andiamo a controllare Presto Aspetta Andiamo Chissi, 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 chissi Cosa ci fa? Nascondiamoci Via, via, via Dove ci nascondiamo? Ti sono detta Eh no, io vado là sopra Mi sarò nascosto bene così No Non sei nascosto per niente bene Attento per rompere tutto Dai, frenati Adesso mi sarei chiamata Stai arrivando Presto Eccolo Eccolo Ma che cosa vuole? Oh no Che cosa sta cercando? Forse ci sta Sta cercando noi Non lo so per quale motivo Forse gli abbiamo fatto qualcosa Ma è proprio cattiva No, non sta cercando noi Sta cercando qualcosa Oh no, Merlino Spontati da lì Merlino potrebbe essere pericoloso Scappa Ma che stai cercando? Stai cercando sotto al tavolo Ma che cosa sta cercando? Ma che cosa sta cercando? Sai perché stai giocando con Merlino? Non mi sarei mai aspettata che Kissimmee e Merlino andassero d'accordo Sembrano quasi amici Ma che cosa sta facendo? È altissima Sta cercando qualcosa Oh no Oh no Il libro No 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 Ha preso il libro Non ci credo Stavo cercando il libro Cosa sta facendo adesso? Sta scappando con il libro Si accorta di noi Sapete benissimo Che non possiamo lasciarle il libro Perché il libro ha dei poteri Aiuto Oh no Beccati questo Beccati questo Che vuoi? Tiragli il panino gigante Beccati il panino gigante Presto scendere Dobbiamo scendere Presto dobbiamo riprendere il libro Sprechitini Beccolo Oh no Oh no Non lo cercano 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 il libro Che cosa facciamo adesso? Dobbiamo difenderci Dobbiamo prendere anche i nuovi normi Sì Prendile tu queste Ecco qua Ho preso queste Ho paura di affrontarla Aiuto Affrontalo prima tu Aspetta Vado a prendere delle armi Chi si messi? Beccati questo Perfetto Aiutami Aiutami Alicami Che chasse Aiutami Eccolo Aiutami Sì! 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 Oh! Sì! attenta attenta io mi strego chi si messi eccolo qua l'ho preso l'ho preso e adesso scappiamo come facciamo a scappare c'è lei qui dalla porta si sta arrabbiando tantissimo sta proteggendo la porta guarda oh no non riesco a prenderla aiutami lisa aiutami lisa è arrivata da sotto e che è più felissima mi sta passando ehi perchè hai colpito a me no perchè hai colpito a me no perchè hai colpito a me allora adesso basta相 Considera che la sc hasUE Si si". Che tu hai colpito a me? Dove ti ha colpito a me? tu hai colpito me invece che chissimissi ora basta questa la prendo io stai costrata ma aspetta un momento ci siamo persi qualcosa dov'è chissimissi? dov'è chissimissi? dov'è il libro? chi fa l'entra prendo il libro? no chissimissi presto dobbiamo andare a cercarlo prendiamo qualcosa un'arma prendo questo dobbiamo cercarlo assolutamente riprendere il libro non può rimanere nelle sue mani il libro storie paurose e voi l'avete preso ce l'avete presto andiamo a prenderla qui non c'è forse in camera da letto ottimo andiamo a vedere chissimissi che c'è? chissimissi da qualche parte non mi sembra che ci sia qua che c'è? ho trovato uno con un'arma ah no sono io il tuo riflesso non me ne ero accorto vediamo se è qua fuori dalla finestra dici che è uscita dalla finestra magari è in giardino dovremmo andare in giardino a prenderla non c'è nessuno qua sarà scessa al piano di sotto andiamo in saluto andiamo a controllare almeno speriamo che non sia scappata del tutto fuori da casa altrimenti sarà veramente difficile da trovare riprendere il libro attento a questo qui nello specchio ma insomma questo è un po' pericoloso secondo me è un mostro dai andiamocene ehi proviamo a scendere al piano di sotto vediamo se è lì ok? ok andiamo chissimissi dove sarà? chissimissi dove è andata? voi l'avete vista da qualche parte forse è meglio dividerci ok tu controlli quel salotto io vado a controllare in cucina così non restiamo che tu ti metti a mangiare tutte le cose così aspetta 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 portami qualcosa mentre cerco magari mi viene ma aspetti ah no cerco chissimissi ok cerco chissimissi non c'è non c'è neanche qui sarà qui sarà no neanche qui credo che chissimissi non si nasconda qui almeno che no neanche nell'armadio provo a nascondermi qui magari passerà e a quel punto quando passerà io sarò pronto qui a riprendermi il libro mi metto qui comodo e aspetto che Anita mi porti qualcosa da mangiare tanto io alla fine dovevo controllare qui e ho controllato che problema ci sarà mai arriverà prima o poi chissimissi o arriverà prima o poi Anita con il cibo si arriverà Anita con il cibo è chissimissi ti stavo cercando ti stavo cercando dove credi di andare è chiusa il chiame non lo vedi perché io non andavo a stare zitto che cos'è tutto questo rumore vitale è il pericolo avrà trovato chissimissi preto oh no sono entrato aiutami aiutami ci stai facendo chissimissi ah ah guarda oh no no chissimissi che cosa stai vedendo ah ah odi di tale Gitalia che succede? Grazie per la visione!